Quali sono i tratti di questa caratteristica lombarda? del modo di lavorare e di produrre? In questo territorio che si chiama Lombardia, a partire da una configurazione molto complessa del XIV secolo, si è verificata poi nel tempo una serie di riduzioni territoriali e passaggi di territorio ad altre realtà amministrative politiche, ciò nonostante la rete degli scambi in qualche misura attraverso i territori appartenenti a realtà politiche differenti hanno continuato ad essere magari con maggiore difficoltà ovviamente e questo ha fatto sì che alcuni caratteri fondamentali si siano mantentuti nel tempo e che quindi abbiano potuto in qualche misura anche sperimentare le difficoltà legate all'appartenenza a modelli amministrativi e politici diversi. La interrompo, lei dice che un primo aspetto a Lombardia è che il suo territorio, il modo in cui si configura istituzionalmente è policentrico. Il livello del governo locale non era messo in gioco dall'appartenenza a realtà amministrative politiche differenti da un lato. Accanto a questo policentrismo amministrativo che rende la comunità locale abbastanza autonoma, specialmente se la guardiamo dal punto di vista delle grandi città che compongono la realtà lombarda, si accompagna anche un policentrismo economico che ha a che fare non soltanto con l'iniziativa delle singole realtà, ma ha a che fare anche con la struttura economica diversa, il policentrismo economico rimanda al policentrismo produttivo, le realtà lombarde si caratterizzano per loro essere realtà economiche centrate su determinati tipi di agricoltura o su determinati tipi di attività manifatturiere che interagiscono fra di loro a prescindere dall'appartenenza alle realtà politiche e amministrative differenti. Quindi, professore, indipendentemente dalla dominazione o dall'assetto statuale o di governo del sistema, il policentrismo amministrativo e il policentrismo dei settori e delle forme produttive continuano a sussistere e crea il modo… E non vengono troncati i rapporti fra le aree, questo mi sembra molto importante, mi sembra molto importante perché irrobustisce in qualche misura i rapporti economici fra le diverse realtà lombarde, non vengono messi in discussione e da un altro punto di vista rende la regione nel suo complesso, o dire in certa misura autosufficiente, nel senso che esiste un mercato regionale in qualche modo che continua a essere alimentato dagli scambi interni senza dover dipendere in misura troppo esclusiva dalla dinamica dell'economia internazionale, fuori da questa realtà regionale. Questo è un dato che mi sembra interessante, che va avanti anche poi ovviamente nei secoli successivi fino anche, credo, alla realtà attuale, dove il mercato interno lombardo continua ad essere alimentato dalla capacità dell'interscambio interna alla Lombardia. Professore, tornando sul tema delle autonomie locali, anche oggi sono un elemento centrale, che cosa sono state le autonomie locali in Lombardia in prospettiva di sviluppo secolare? Le autonomie locali in Lombardia sono state un fattore rilevante secondo me anche nel processo di sviluppo economico e non solo economico ma economico-sociale. Nei loro rapporti con il livello superiore di governo sono riusciti anche a conservare il potere di guidare le collettività locali, con un margine di autonomia rilevante. Il livello di governo centrale, la guida politica generale del territorio non ha mai inciso più di tanto, anzi ha conservato e ha voluto anche conservare l'autonomia locale. Le riforme teresiane di metà Settecento non solo hanno messo in discussione l'autonomia delle comunità locali, ma per certe verse le hanno addirittura esaltate, laddove il livello di imposizione era alla fin fin determinato dalle esigenze del governo centrale di trarre dal territorio una certa quantità di risorse che naturalmente dava luogo ad un'imposizione fiscale corrispondente. Da un livello di governo intermedio che era poi di carattere soltanto amministrativo che era la provincia in quanto titolare di alcune funzioni e poi in definitiva dalla comunità locale, costituita dall'assemblea, dal convocato generale che era l'assemblea di quelli che dovevano pagare le imposte sulla terra. Il governo locale doveva fare i conti con il convocato e la spesa locale dava luogo ad un'imposizione sul terreno e solo se l'assemblea era d'accordo sul punto. Quindi questo tipo di meccanismo forse qualche insegnamento potrebbe ancora darlo, nella misura in cui la responsabilità della funzione è associata alla responsabilità della fonte di finanziamento della funzione stessa. Si può dire con uno slogan che la responsabilità dello sviluppo era locale, nasceva della gestita localmente. Per molti versi direi proprio di sì, per quel che riguarda le esigenti di vita della comunità locale questo è così.